Ciao, piccolo disclaimer, prima di lasciarti al video, stai vedendo un estratto di live che faccio con il buon Ramon nel suo canale, che trovi qui sotto in descrizione, e ne realizzo poi degli episodi. Quindi ti lascio al video, mi scuso per il linguaggio poco family friendly, ma è bello pure così in live, quindi buona visione! Allora, io mangio l'ennesimo pezzo di carne cruda, ci piace così. Le coordenate le chiudo. Di qua. Ok, occhio che c'è un buco. I buchi sono pericolosi. Oh sì, eh. Quanto hai detto? Allora, Z sono a 328. Ah no, 328, ok. E la Y è 74.000. Vabbè, se vuoi mi metto su un albero così mi vedi meglio. No, no, adesso ti trovo, adesso ti trovo. Fammi arrivare a 300 erotti. L'importante è che non diventa notte. Venendo di qua ti trovo adesso, non ti preoccupare. Ah no, io non lo metto in dubbio, buon uomo. Non è che... A parte che secondo me sei vicino a casa mia. Però, vabbè. Non lo so, perché qua non vedo altro che alberi... Cioè, non è che ho una grande visuale, anche zoomando con C. No, è tutto una gran foresta questa. Hai detto 300? 325 e X sono a meno 109. Quanto arriviamo a 325? No, io con le coordinate, ragazzi, non... Cioè, non è cosa mia, ma ne rendo conto. Allora, 303. Il bello è che nel primo episodio ho trovato pure la bussola, l'ho messa in un item frame e non l'ho più smossa. Adesso voglio vedere quanto tempo ci mette. Ok. Comunque un... Ah, ecco qua. Quanto tempo ci... Santa pace! Dai, vienimi dietro, dai. Eh, vienimi dietro. Ah no, aspetta, 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 no. Aspetta, 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 tieni. Mi equipaggi, grazie. Tieni questo, tieni questo. Lei è proprio un brav'uomo, comunque, eh. E basta. Come sei a mangiare? Ah, mi posso mangiare qua pelle di mucca, un cumuletto di terra, anzi, che deposito qua. Non ne ho. Ho mangiato una mucca cruda. Andiamo. Grazie. È proprio un brav'uomo. Sembra di no, un burbero, però tutto sommato. Vai a cagare, vai. Eh, poi il bello che arriva, vediamo quanto ci sta. Io guardavo altrove. Cazzo non lo devo dire. Sì, ma stavi dietro, che seguo la bussola e dobbiamo tornare a casa prima che faccia buio, perché sennò qua... Eh, qua l'uomo nero ci fa bubù. Eh sì. È un po' male a che... Scusa, era tua questa? Molto probabile, sì. Ok. Ah, vedi, sì, qua c'è l'albero. Cioè, io non ci credo, ero a mezzo metodo da te, allora. Occhio. Scheletro, eh sì. Vaffanculo. Pazzo di merda. Lascia stare il boomer che già è infiltrato di suo... Sì. Allora. No, aspetta, ho sbagliato. Di qua. Eh, seguo la bussola, disse, eh. Eh sì, sì, sì. Ma stavo vedendo un'altra roba. Comunque ti devo dire... No, ci siamo in realtà. Aspetta. Eh... Perché qua... Ok. È casa mia, allora è qua sotto. Ah, quindi io praticamente ero a due passi da te. Dovrebbe essere qua sotto, che vedo? Ah, signore. No, non è un problema. Non è un problema perché... Ti vengo a prendere io. No, non è un problema perché da qua so tornare a casa. Vieni, vieni. Eh, sì, sì. Conosco la strada. Anche quelli del Titanic dicevano, no, è solo... Ah, Creeper! Creeper! Zio Kang. Guarda che esplode. Io lo lancio di sopra, nel dubbio. Gra... No, grazie, eh. Comunque. Eh, buon uomo. Io sto dando la via al buon fabbietto per permetterci di ucciderci. Eh, certo. Scheletro con arco incantato da... C'è più niente. Ok, seguiamo il mare, vieni. Un bel survival horror, no, Minecraft. Cioè, nel senso. Beh, perché non è abbastanza horror. Anche questo è vero. Oh, questo è di merda. Ah. Lui si sofferma sempre con gli amici. Eh, ma abbiamo da fare qua. Comunque, scena epica, ragazzi. Segui me, vieni mi dietro, che io ho la bussola. Ho capito, ma non sapevo che bisognava settarla. E Simone mi dice le cose col contagocce. Eh, vabbè. Un po' il fascino della scoperta. Dico, voglio spezzare una crafting per... Ma questa... Questa mi sa che l'avevi messa tu, perché non hai operati. Sì, sì. Probabilmente sì. Ma ha tolto l'infinito oltre. Ah, volevi, pezzi di merda. Io sono con un cuore, signore. Scappa, scappa. Sono appena morto. Recupero io tutto? Eh, recupero tutto io. Che palle. Qua c'è una crafting. Come hai fatto a morire? Buon uomo, le spiego. Tre tridenti in bocca. Che io non capivo da dove arrivavano. Perfetto. E calcola che io sono con quattro cuori, quindi. Allora, sto cercando di seguire la strada che abbiamo fatto poco fa. Eh, cerca di ricordartela. Più o meno. E così arrivi, dai. Allora, io sono riuscito a ritornare qua. Boh, segui il mare. Teniti il mare sulla sinistra e continua. Ah, quello mi ha pure avvelenato, figlio di un cane. Ho recuperato la mia barca e la pelle. Allora, il mare sulla sinistra. Eh, ma qua c'è poi una biforcazione con delle canne a zucchero. No, tu teniti il mare a sinistra e circunnaviga. Ancora sta casa non si può capire dove cacchio ce l'ha. Qua è tutto. È uno zombetto. Cioè, secondo me è esagerato un po' con la difficoltà, eh. Io te lo dico, voi. Ma, eh, vogliamo dare anche un'esperienza, voglio dire... Ma, per carità... Un po' intensa ai nostri telespettatori, voglio dire, no? Per carità, però praticamente è da cardiopalma, signori. Ma non è da cardiopalma, signori. È che siamo nudi con la fionda, quindi è normale. Comunque, bravo uomo, io qua c'ho il mare a sinistra, ma ancora sta cazzo di cassa non la vedo. Piove? Allora, sono a meno 156 e 248. Ma sta casa... Qua c'è un bel creeper. Tieni, gioia, mettiti nella barca ed esplodi. Bravo. Ti ho sentito, è esplodo. Ti ho sentito qui vicino a casa. Oh, facciamo festa tutti insieme. Dov'è che sei? Esattamente qua, buon uomo. Stavolta è lei che non mi vede. Vieni, vieni. Allora, tieni. Tieni, tieni. Grazie, bravo uomo. Tieni questi. Senti, ti sei ripreso tutto tu. Ah, mi sono ripreso tutto io? Sì, perché... Ok, no, l'hai ripreso tu. Mettimi di qua dentro e me li prendo io. Facciamo così. Mi sembra più pratico, ok? Mi prendo pure questa di lana e un po' di legna. A few moments later. Adesso sto finendo. Allora, prenditi questi due polli che sono qua. Aspetta. Ok, uno. Mi verrà fuori una registrazione di 800 ore, però vabbè. Ebbè, dopo fai i tagli. Allora, vieni, vieni con me che ti faccio vedere, vieni. Buon uomo, mettere una pedanina per aprire e chiudere la porta. Dopo mettere... Non caccarmi il cazzo, dopo mettiamo tutto. Forza. Quanto è scurrire il nostro Ramone. Ci piace così, cazzo. È solo provvisorio. È solo provvisorio. Adesso ci recuperiamo, ci organizziamo e andiamo a trovarci il posto dove decideremo di costruire. Va bene? Vabbè, l'importante è che vi sta mare. È ovvio. È ovvio. Allora, occhio come scendi qua. Aspetta, brav'uomo, che mi faccio almeno un paio di torcine perché dove tu non hai illuminato, ce la capisci bene. Eh, ma ero senza creeper sotto. Eh già, è qualcosa. Tanto non puoi salire, pezzo di merda. Dove? Ah, guardalo là. Oddio, non può salire. Guarda, guarda come si dimena. Occhio. Vai, minalo, minalo, minalo. Guarda il bastardo, me lo tira di sopra e sta esplodendo. Beh, però l'abbiamo gancato giusto. L'abbiamo gancato giusto. Qua c'era del ferro, brav'uomo. Io direi che ci serve. Piglia, piglia, piglia. Vado a mettere le torce giù. Bravo. Allora, qua c'è il redstone che il brav'uomo sta prendendo. Facciamo un pochettino di luce da questa parte. Bravo. Anche qua c'è il redstone. Qua c'è altro ferro. E qua c'è un bucchirollone. Allora, qua abbiamo, allora, altra red. Altra red, signori. Sì, 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 è abbastanza pieno qua sotto. Allora, come punto non è malvagio perché... Vero? Eh, sì. Almeno siamo ad altezza ferro e carbone, già. Qua c'è pure un poco d'oro. Ma non so fino a che punto. Eh, piglia, piglia che... Che magari poi ci torna utile... Eh, però io ho l'inventario tipo quello di... Cos'era? Marin? Tipo portato. No, no, non è vero. Sei già pieno? No, no, no. Ancora voglia. Ho fatto l'estensione dell'inventario, non c'è problema. C'ho la versione plus. Ah, vabbè. Allora. Io la redstone la prendo tutta. Poi vediamo che farcene. Io non ti vedo più però, eh. Sono dall'altro lato, opposto a te. Aspetta, seguo le torce, perfetto. Qua, qua, qua. Opposto a te. Qua mi ha lasciato un po' di redstone, la prendo io. Si scende ancora, eh. Si scende ancora? Vabbè, finché mettiamo le torce. Davano il consiglio di mettere le torce sempre da un lato, così ti ricordi da dove vieni. Però io non l'ho mai fatto. Ah, eh, beh, potrebbe essere un buon consiglio. Ma chi se ne fotte? Io seguo la luce, diceva quello. Allora, la redstone la vuoi, mi sembra di capire. Beh, prendiamola, c'è. Che fai, te ne privi? Ma assolutamente no. Potremmo fare anche una piccola farm. Elettrino, intanto adesso morirà. Aspetta, allora che mi metto scudo termico qua. Dov'è? Qua sotto. Qua scende, scende tanto, eh. Eh, ho visto. Non so fino a che punto ci convenga, però, eh. Eh, però, sarebbe bello vedere se... A meno che non vogliamo già un diamantino, una cosa. Eh, no, sarebbe bello provare a vedere... Ok, lo scheletro è caduto di sotto. Sarebbe bello provare a vedere se riusciamo a scavare fuori qualche diamantino, no? Visto che siamo qui. Sì, è un po' prestino per trovarlo, però... È un po' prestino anche perché siamo senza armature, ma vabbè. Sì, diciamo che forse farsi almeno... Sì, è almeno un'armatura di ferro. Una pettorina di ferro, ecco. Poteva essere un'idea, dici. Io sto avendo pure difficoltà a scendere, devo essere sincera. Noi siamo spavaldi. Calcola che noi qua siamo praticamente... È finito. C'è della lava qua da qualche parte. Noi siamo ad altezza meno 43. Però non vedo effettini di lava. Ah, eccola, 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 trovata. Ok. Se troviamo uno spuntoncino, facciamolo. Sì, no, più che altro ci serve trovare un accesso più comodo. Sì. Allora, vediamo qua come... Vabbè, però penso che se scendiamo da questo lato... Qualcosa ci sia. Perché lì siamo proprio... Lì siamo proprio alti... Allora, aspetta che sto... Aspetta un attimo. Allora, da qua... Ok. Fai una sorta di scaletta. Eh, qua calcola che abbiamo... Una passerella unica se scendiamo di qua, eh? Eh, ho visto, ho visto. Allora, io allargo un attimo. Aspetta che io illumino, perché se ci cade un creeper interno... Non è la testa, praticamente. Non è bello? No. Non è per niente bello. Anche se qua abbiamo illuminato abbastanza, eh? Allora, facciamo così. Io scavo da questa parte per andare dall'altro lato di qua. Eh, aspetta però, manca un gradino qua. Alza un piloncino qua sotto. Vai, un altro. Ok, perfetto. Boh. Perché almeno facciamo così e scendiamo... Eh, però... Ok. Allora, tu fa una roba. Ok, dimmi. Io scavo di qua... Mmh. ...per andare da quel lato di là. Tu scava dall'altro lato per andare dall'altro lato. Ah, ok. Così. Però io di qua praticamente non ho una mazza per... No, se tu scavi dentro il muro... Vabbè, mi infilo di qua, dai. Ti tieni a punto. Ci infiliamo, stiamo attenti così evitiamo la... Circunnavighiamo la lava. Vediamo, faccio sta piccola deviazione da questo lato, vediamo. Vediamo se abbiamo un po' di fortuna. Io non mi ricordo esattamente l'altezza dei diamanti. Ma però... Più o meno qua. Più o meno qua. Sì, generalmente diciamo che dove c'è redstone... No, la redstone è più alta. Più alta è la redstone? Sì, la redstone è più alta. Dovrei aprire allora i libri. Diciamo che i diamanti stanno da almeno 56 in poi. E vabbè, noi siamo a meno 54. Però io qua lava non ne sento più da me. Quindi provo a scendere un poco, vediamo. Sì, stai attento. Cioè, comunque qua di lava io proporrei di scendere e recuperare un bel po' di secchi di lava qua, eh. Sì, perché comunque considera che uno di lava cuscina 64 blocchi. Ecco. Ed è tanta roba, eh. Ci potrà tornare utile. Quindi credo che... Io sto finendo il piccone. Anch'io. Eh, perché sta qua, su quel piccone di ferro è dura, eh. Niente, niente, dobbiamo risalire. Comunque io qua a meno 57 ho fatto un corridoio e prosegue il lava non ce n'è. Però, ahimè, diamanti... Diamanti niente. Niente, risaliamo, facciamo dei secchi e... E vediamo quanto ferro abbiamo. Allora, io intanto organizzo una risalita perché qua c'è... Aspetta che vedo di fare una roba, una roba un po' circa. Ah, se vuoi una mano per chiudere la lava io sono un professionista, l'allargo in due secondi. Ci sono, però, ci sono, però mi cacca un po' le palle. Allora. Aspetta, gustiamoci... Eh, vabbè, ero toccato... Dio, porco. Cioè, da dove arriva sta lava? È bellissimo perché sei sospeso in aria. Ma da dove arriva sta lava? No, no, io ti faccio uno screen perché questa sarà la copertina del video che non farò con l'intelligenza artificiale. Eh, vabbè, però dai. C'è pieno qua. Qua abbiamo fatto il danno. Più che altro mi preoccupa tutta questa lava che sta scendendo così... È pieno sopra là perché ho aperto due buchi e da due buchi sono usciti... è uscita la lava, capito? Aspetta che non se... Che tra l'altro dobbiamo toglierla perché ci sta cadendo tutta nel buco dove dobbiamo fare cose. Sicuramente illumina, quindi non avemo preoccupazioni di... Ma illumina, scioglie, tanta roba, eh. Però, insomma, no? Allora, vediamo se ho fissato qua. Ah, e qua tu hai fatto il danno da questa parte. Eh, tu hai fatto... senti, subito a giudicare. Eh, ma io... Subito a puntare il dito. Io faccio un po' come fanno le mogli, le fidanzate. Tu, tu... Eh, subito a puntare il dito. Poi, scusami, ci conosciamo da così tanto tempo, ti do del tu. Quindi, tu hai fatto il danno. Eh, no, eh no. Vedi, ora ho fatto il danno. Vedi che è pieno. Vedi che è pieno. Eh, eh, non è successo niente, eh. Ti ho salvato la vita. Grazie, bravo uomo. Io mi sento sempre più sicuro con lei, eh. Ah, sì, tranquillo. In una botte di ferro come... Come con il super principine. In una... Esatto, esatto. Cheato, eh. Cheat. A few moments later. Ma che poi io sto pensando possiamo risalire pure da qua. Scusami, Claudio, ma in questo momento sono un attimo perso. No, no, capisco, figurati. Io sto ispezionando qua st'acqua dove mi porta. Cioè, non si fa... Ah, guardate. Allora, oddio, fatemi riprendere un attimo. Allora. Allora, io ho fatto la cavolata di salire dall'acqua che c'è dove sei tu. Sì. Ma ora praticamente mi sono perso, perché ero convinto che uscivo... Dove sei andato? Dove sei andato? Che vedevo la casa. Ah, sei risalito per la cascata, ok. Sì. Sì, non hai fatto una gran genialata. Mi ha disconnesso pure, ogni tot disconnette. Però, ovviamente... E che cazzo, dai! No, sei morto! Ma a Porto Rico. Sì, ma c'avevo un botto di ferro con me, vaffanculo. Riesci ad andare a recuperarti la roba? Ma quando mai? Cioè, ma chi si ricorda... Avevi dormito nel mio letto? Ma no, infatti mi ha fatto riportare qua allo spawn originale. Ok, qui devo andare a recuperare tutta la tua roba. Quanto ferro avevi? Eh, 28, porca puttana. Avevo preso pure un po' di carbone. Vediamo un attimo se riesco. Sì, qua ci sono pure i pillager, ma che cazzo? I pillager? Sì. Mai li hai incontrati. Com'è come posto? Allora, sono arrivato a casa tua. Aspetta che... Ok, riesci a... Ecco, bravo. Dormi. Cazzo. Riesci a recuperare il punto dove sei morto? Eh, buon uomo. Io posso... No, è da fuori ci conviene, eh. Perché tu eri... È da fuori, non lo so. Eh, allora, ok. Prova da sotto. Dai, prova a fare il giro che hai fatto. Vedi se riesci a recuperare la roba. Io vado a mettere via la roba che ho qua. Materialmente non c'è i riferimenti. Cioè, dobbiamo fare pillaroni... Pillaroni... In casina, sì. Allora. Io poi mi litigo pure con la salita d'acqua. E ci prendiamo soltanto le robe che ci interessano. E ce ne andiamo, no? Andiamo a trovare un posto che sia un po' più carino. Allora, era andato di qua. Sì, ma valla a trovare. Perché qua ci sono gli amici pillager che praticamente mi stanno seguendo non so in base a che cosa. Mi ha disconnesso di nuovo dal server. Ha rotto il cazzo. No, vabbè. E mi ha fatto tornare indietro. Prova a staccare. E infatti sei qua. Per me è un po' farlocco come valore, sai? Niente, io sono uscito all'avventura per vedere se vedo la mia roba, ma... No. Anche perché non mi ricordo veramente. Cioè, doveri vedere il video perché c'avevo le coordinate aperte. Ma ormai sarà sparito tutto. Allora, scheletro, ammazzami così torno là. Vabbè. Allora, facciamo così. Aspettiamo che arrivi il giorno. Finiamo di cucinare. Prenditi... Per farti la spada e il piccone. Allora, spada sono due. Prenditi il ferro, quello che ti servo. Il piccone sono tre. Ok. E... Usiamo questa chiara. Esatto. Ci portiamo via tutto. Cioè, ci portiamo via quello che ci interessa e ci troviamo un posto un po' più bellino, no? E fatti il letto. E non ho la lana. Ah, boh, adesso la troveremo per strada, dai. Mi piace fatti il letto. Non ho la lana. Eh. Ok. Spada e... E boh, questo. Avevo pure un bel po' di carbone, vaffanculo. Ah, noto solo ora che siamo senza tetto. Sì, boh, l'ho fatta, te l'ho detto, l'ho fatta giusto così per farla. Allora, quando fa giorno, tra poco... Ah, già è. Ah, adesso sto facendo giorno. Allora, prendiamoci la crafting table. Prendiamoci... Allora, io mi prendo qua tutta sta pietra. Ok, allora, io direi... C'è un creeper là. Salve, creepo? Allora, io direi... Che andiamo verso il mare aperto di là. Scusami, ci facciamo una barca? Ma no, 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 no. Tanto in due ci si può andare in barca, quindi... Ma no, no, andiamo a piedi. E ci troviamo un posticino. A few moments later. Non go anche. No, no, non mi piace, non mi piace. Ma poi, per ritrovarlo è un... Sì, hai voglia. Dimenti scemo, diventi. No, ma io credo che da qua dovremmo riuscire a... A trovare tutto. Cioè, a trovare quello che vogliamo trovare, il mare. Aspetta, non ti vedo. Guarda qua. Guarda qua. Dal buco dove sei andato? Dritto. Ci sono due pecore qua, eh. Ammazzate. Sei andato dritto. Non riesco, ho l'inventario pieno. Qua, qua sono. Qua, pigliati la roba. Una è qua e una è qua. Ok. Allora, la crafting ce l'ho. Così facciamo sto caspita di letto. Credo che abbiamo trovato il mare aperto. Eh, già, è cosa buona e giusta, eh. Eh, sì. Ok. Abbiamo trovato il mare aperto. Eh, già l'episodio si può concludere qua. Abbiamo trovato il mare aperto, ragazzi. Beh, guarda. Abbiamo solo un isolotto là, così triste. Per colpa tua ho spostato casa. Lasciamo per. Eh beh, ma è giusto. È giusto, è doveroso. Sì. Allora, qui abbiamo mare aperto. Vediamo esattamente il sole. Cerchiamo di capire. E poi, eventualmente, perché lì c'è un piccolo isolotto. Davanti là avevamo un altro isolottino, là. Non vedo nulla io, eh. Se vieni qua da me lo vedi, credo. Ma non lo so, dipende quanti c'è anche carichi tu, eh. Non so quanti saranno qua, bu. Che io ce ne ho, aspetta. Non me lo fa vedere da qua, anzi. È 12. Sai che secondo me tramonta di qua il sole, eh? Vieni. Eh sì. Eh sì, bello. Questo sole maledetto. Vieni, 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 vieni. Stammi dietro. Affacciato al mare. Non è male, però... Io picchio i polipi nel frattempo. Per esempio, perché non hanno messo la carne di polipo? Cioè, io... Una bella insalata di polipo con il limone. Allora, qua abbiamo... Eh, abbiamo anche il portale del nether. Eh, allora, eh, cioè... Il problema è che non abbiamo mare. Cioè, il sole tramonta sul mare, però non abbiamo il mare. Porteremo il mare nelle vostre... Eh, cazzo, qua c'è il nether. Aspetta, scusami, io sono curioso, voglio vedere cosa... Vai, 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 tranquillo. Io guardo se c'è del mare qua, oltre a... Oltre a stare dura, se c'è del mare. Due accendini, un pantaloncino d'oro e un po' di flint. Piglia, piglia tutto se riesci, che io sono a tappo, eh. Guarda, mi frego pure la... C'è un villaggio, Ramon, bellissimo. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Neanche far apposta... Io mi sto spolpando il... Il villaggio, per te. Eh, vabbò. Allora, neanche far apposta... No, neanche far apposta un paio di palle. Siamo arrivati al limite di un bioma. C'è dell'acqua, però non mi è chiaro. Io scendo sempre dritto per dritto, va bene? Allora, io nel villaggio ho recuperato una Blast Fornays e lo Stonecutter, nel dubbio. Beh, va benissimo. Allora, io scendo... Tua madre. Io scendo... Stai attento che si scivola. Aspetta che sto tornando indietro dove eri. No, no, vai dritto per dritto. Cioè, tu hai... Passi il villaggio nella direzione del sole, no? Che... Dove tramontava. E scendi praticamente dalla scogliera. Cioè, c'è una montagna. Allora, scusami, sorpasso... Io qua sto morendo di fame. Ok, abbiamo... Credo che abbiamo trovato il nostro... Il nostro posto felice, sai? Anche perché... Bravo uomo, qua con i villager accanto e tanta roba, eh. Sì, sì, sì. Direi... Direi che ci possiamo fermare qua. Allora, bravo uomo. Io qua c'ho... Praticamente una chiesetta. Tu sei andato dritto? Allora... Vai verso dove tramontava il sole prima. E io che ne so dove tramontava il sole prima. Non lo vedo più. E qua c'è il villaggio. Eh, passa oltre il villaggio seguendo il sole. Aspetta che mi frego pure qua le balle di fieno. Muoviti prima che se ne vada il sole che poi perdi la strada. Vabbè, qua dritto e calmo. Vabbè, ne sono rincoglionito, però... Vabbè, fai bene perché c'è io... Eh. Aspetta che mi sono perso nella mia stanza. Ah no, mi sono ritrovato. Ho scoperto che ero seduto, quindi... Segui il sole. Ah, tu sei qua sotto. Dove stai? Mucca e girasoli. Esatto. Scendi. Io non ti vedo però. Scendi è un parolone, eh. Scendi. Metti la... Lì, dove c'è quella sporgenza. Forma il zocco. Dai. Eh, la moffetta. Allora, mucca. Girasoli del cacchio. Allora, qua c'è l'acqua, buon uomo, ma io non ti vedo. Ho una torcia in mano. Non dico dove te la devi mettere. Guarda, metto due torce a terra, qua così. Ah, ti ho visto, ti ho visto. Vaffanculo a te e a chi non te lo dice pure. In chat un bel vaffanculo, grazie. Hai capito. Eh. Pur. Ah, dai, che ti ho portato tre trinche di porco. Dove cazzo eri? Da quella parte. Che sei uscito da qua. Ma porca vacca. Stavo copulando con un bico. Ma guarda, io non ho parole. Mi diletto che dormiamo, che iniziamo a fare una casa. Eh. C'è. Ai ai. Ci voglio credere, ragazzi. Il bello che c'è la skin del pirata. Ma vai a cagare. Pirata deficiente. Allora, perché non mi recupera? Ah, già. No, tiri tu sta carne, perché hai preso il mio... Eh, il tuo letto bianco, qua ospedaliero, ti... One eternity later. Boh. Andiamo, andiamo a scavare, va? Eh, qua si va, eh. Boh, dopo una certa si chiude. Ok. Però, per farci i materiali che ci servono, va più che bene. Secondo me, sì. Anche perché comunque... Anche perché possiamo cucinarci pure la cobblestone, volendo. Sì, sì, sì. Non è da tanto. Senti, vuoi che scaviamo da qui? Scaviamo anche in basso? Assolutamente. Anche perché di là non c'è una mazza. Sicuramente spuntiamo poi verso il villaggio. Allora, ascolta, scaviamo da qua, il punto più basso, così ci risparmiamo un paio di livelli, no? Sì, facciamo così. Sta grave il del cacchio. Ah, hai usato il trucchetto della torta. Sì, me la tolgo dai coglioni, perché se no qua... Aspetta, lo faccio anch'io. Se no qua... Veramente, guarda quanta ce n'è. Dai, torniamo su. No, vabbè, per niente no. Questi alla fin fine te li conservi, eh. Sì, bon. Te li usi per altro. Vuoi mettere, scusa. Tutta sta scalinata l'abbiamo fatto. Eh, sì, eh. Quanti scalini dobbiamo mettere qua? Eh, qua lo stonecutter ci verrà d'aiuto, eh. Eh, sì, è bello altino. Anche perché siamo a zero. Eh, anzi, forse anche meno uno, meno due. No, non penso che eravamo già a zero. Oh, sì. Qua siamo a 65. Eh, sì, è. Perché quando arrivi alla... Ah, anche questo è vero. Allora, abbiamo scheletrini. Sì. Infatti mi sono messo lo scudo. Con tutto lo scudo mi riesci a colpire, eh. No, c'è uno, te ne hai uno dietro. Eh, vaffanculo. Ti ha ucciso? Sì, vabbè, ma tanto sono qua. Torna qua. Mori ammazzato. Ok, sto morendo. Ti sei recuperato la roba? Non provavo questo brivido di vedere le mie budella per terra da tanto tempo. A few moments later. Ah, hai fatto il sentiero? Sì, ho fatto il sentierino da mente. Ma che è bellissimo! È bellissimo il sentierino. Mettici anche quei due cubetti. Ah, ecco, bravo. Là che è brutto. Dove, dove? Là, là, là. Vedi che si taglia. Lo so, lo so, bravo. Aspetta un attimo. No, fallo, fallo, fallo parti, prego. Una fonde... Ecco, grazie. Si è rotta la pa. Grazie. Esatto. Però, chiaramente, e lo dico anche ai ragazzi che ci stanno seguendo, eh, qua siamo, non siamo in estrema, siamo in survival. Quindi anche se moriamo, difficoltà massima, però anche se moriamo, abbiamo notato. Quindi, tutto quello che noi costruiamo qua, fino a quando io non faccio il wipe completo, ce lo teniamo, ce l'avremo. Quindi possiamo anche fare, azzardare qualcosa in più. Non tanto, magari, come dimensioni, però come quantità di cose da fare. Vabbè, sì, per l'amor del cielo. Possiamo sfruttare il mare che abbiamo qua, possiamo sfruttare la montagna che abbiamo là, perché è tutto un passaggio di treni, di ferrovie per arrivare su al villaggetto dei villager. Tu lascia che troviamo le risorse, cioè a me la fantasia non manca, comunque. No, appunto. Senti, andiamoci a prendere quell'oro che avevamo trovato... Sì, aspetta che scarico il vetro da te. Ah, anch'io, sono pieno di roba qua. Da dove si scendeva, buon uomo? In che senso? Per la miniera. Dritto davanti a te. Ah, ok. In che io qua... Aspetta che devo mettere anch'io via roba, però, perché io faccio lo splendido, ma l'ho inventato pieno. Faccio lo splendido. Buon uomo, ma qua siamo scesi facendo male i gradini, eh. Io glielo dico. Abbiamo fatto un po' a cazzo, sì. Eh, boh, beh, li fixiamo in un secondo momento. Ma sì, chissà. Tanto comunque sarebbe bene mettere i gradini, oppure mettere direttamente delle rotaie, perché se no qua ci stiamo una vita ad andare su e giù. Ma in effetti. Buon uomo, non si vede una... Arrivo, arrivo. Arrivo, scusi. AB, 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 AB. Tu devi fare che ogni tot metti una torcetta. Eh, sì, eh, lo so. Ho finito le torcette, comunque. Ecco. Hai carbone, eh? Sì. Eh, toh. No, no. Ah, vabbè. Si occupi delle torce. Eh, che ci facciamo più bella figura. Che vedo che sei un po' più preparato di me con le torce. Sì. Però, praticamente, stiamo andando giù, però ancora non abbiamo trovato un da... Ma se per questo non stiamo trovando manco ferro, carbone e quant'altro. No, abbiamo preso una strada un po' po' di merda. Io mi sono ricordato che avevo della cioccolata. Aspetta, la cioccolata è mezzanotte, ragazzi. Eh, ma anch'io penso che mi farò un pezzettino di cioccolato tra poco. Siamo arrivati intanto a tre ore nette. Eh, io ho cominciato 40 minuti prima di te, quindi... Tre ore 40, po'. Torcina. Ma sì, è il tempo pure a quando ci si diverte. Che ore sono? 23 e 40. Va bene. Ok. Allora, senti, buon uomo. Io torno su. Ci possiamo fermare. Eh, ben sì, eh. Basta, basta. Anzi, aspetta che stacco pure qua. Allora, senti, buon uomo.